I Kansas City Chiefs stavano festeggiando con la città mercoledì la vittoria del Super Bowl quando si è consumata l'ennesima tragedia americana. Si sentono gli spari provenienti dalla vicinissima Union Station. La massa di tifosi della squadra di football che arrivati nel centro di Kansas City, nel Missouri, inizia a disperdersi. A terra rimangono senza vita una donna, madre di due figli e una ventina di feriti, tra cui nove bambini. La polizia ha arrestato tre persone per la sparatoria, non se ne conoscono ancora i motivi. Di certo non è la prima volta. Le vittorie dei campionati di basket e baseball nel Michigan e in Texas lo scorso anno sono finite nello stesso modo. Kansas City, poi, è una delle città più violente degli Stati Uniti, con 182 omicidi nel 2023. Il presidente Biden ha invitato il congresso a limitare l'uso delle armi d'assalto e dei caricatori ad alta capacità. Tra i feriti si contano otto bambini e due sono in gravi condizioni. Grazie.